Il futuro credi di a te? Ok, forza, andiamo a prendere il tuo Pokémon! Tu sei... Bianca! Molto piacere di conoscerti! Ta-da! Qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno! Hai sentito parlare del Team Plasma, vero? Dicono che bisognerebbe riconoscere le potenzialità dei Pokémon e liberarli dal gioco degli umani! Io comunque... non sono d'accordo! Ti do il benvenuto su questo palco! È giunto il momento della resa dei conti! Ora vedremo quali Pokémon sono i più brillanti! Saranno i tuoi o i miei? I miei complimenti! Siete riusciti ad arrivare fin qui? Purtroppo però... vi dite in quanti siamo! E aspettate ad arrendervi! Ragazzi, vi avviso... non riuscirò a trattenermi per molto! Uff... a me sembrano un po' troppi! Questi spuntano da ogni parte, non finiscono mai! Li sistemerò in fretta, vedrete! Mi servirà il tuo aiuto, sei pronto? Certo, Tony! Seviper! Usa! Morso! H9! Usa anche tu, Morso! Vai, Samurot! Usa Geloraggio! Fermati! Lugario, usa forza Sfera! Costi quel che costi, raggiungeremo il nostro obiettivo! упace... ... そうisato! perdono! Grazie a tutti. Grazie a tutti.